La gente sta riprendendo i suoi diritti usando il colore verde, come un movimento verde. Stanno arrivando ad un punto per ottenere i diritti umani. Obama cerca tanto di avere un rapporto con un governo che è debole. Adesso che il governo è diventato debole, Obama vuole avere una relazione con l'Iran e prendere l'occasione per approfittare di questa occasione. Il colore verde è contro questo perché non vogliamo dare tante cose agli Stati Uniti a questo punto. Non abbiamo avuto un grande cambiamento perché lui voleva solo essere presidente. Ma adesso che un paese è stato, diciamo che era veramente un coup d'etat, allora un suo amico descrive la situazione così che quelli che hanno fatto il coup d'etat hanno preso un presidente e ci hanno regalato un movimento.